Vi parlo da Frittelli Arte Contemporanea in via Valdimarina a Firenze. Questa importante galleria fiorentina riapre con una mostra dopo la pandemia, una mostra importante. Oggi siamo qua non solo per proporre ai nostri telespedatori la mostra, ma per invitarli, anzi lo farà direttamente il direttore artistico Carlo Frittelli a venire a visitare questa imperdibile mostra del pittore bolognese Vasco Bendini, una delle maggiori figure dell'arte contemporanea italiana del 1900 al quale la galleria pochi anni prima della sua scomparsa nel 2007 aveva dedicato una mostra importante della quale ci parlerà Carlo accompagnata invece da un importantissimo catalogo che la regia fra poco vi mostrerà in insert, un catalogo che compendiava gli scritti dei maggiori critici d'arte italiani da Argan a Calvesi a Arcangeli e tanti altri e più ovviamente la riproduzione di tantissime opere che abbracciano un lungo percorso artistico del quale vorrei che Carlo ora ci sintetizzasse le tappe più importanti. L'artista era del 22 e quindi ha vissuto gli ultimi anni del fascismo, gli anni della guerra, i difficili anni del primo dopoguerra anche esistenzialmente e poi l'arte sociale con la quale lui ha avuto un rapporto ma di questo ovviamente ne sai molto più di me e quindi vorrei che tu ne parlassi, poi gli anni 60 e poi l'ultima fase, quella che possiamo definire quella più colorata, quella più carica di speranze? Beh diciamo allora, tanto per riepilogare un attimino trattandosi di uno dei grandi, veramente uno degli artisti specialmente nel periodo diciamo informale, tant'è che nel 1948 fece questa meravigliosa mostra a Bologna che poi fu derisa, perché i tempi purtroppo erano quelli, dalla gente, dalla critica eccetera e lui come gesto di ribellione la distrusse interamente. Nel 1953 invece Arcangeli fece questa mostra a Bologna dove lo consacrò veramente come uno dei grandi, dei grandi a livello mondiale perché era veramente un personaggio straordinario, ma perché lo era non solo come artista pittore, ma lo era come figura, come uomo, in quanto l'arte essendo un atto di vita non può essere che l'espressione della persona nella sua totalità. E Vasco Bendini era un uomo particolare, io ricordo tante cose di lui, ha avuto nei miei riguardi un affetto particolare perché mi riteneva come dire, adeguato al suo modo di essere, di pensare. Infatti lui non voleva parlare dell'arte sul mercato. Questa è una cosa bellissima perché molte volte tanti artisti, tanti pittori vedono nel mercato una grande possibilità di vita, mentre non c'entra niente perché l'arte è una cosa che investe la vita ma nella sua complessità e di conseguenza lui era un personaggio schivo, personaggio che non si adattava ecco a considerare il mercato qualcosa che potesse fare o esprimere la sua arte. La sua arte era questa e noi siamo davanti a dei quadri meravigliosi, stupendi. Ecco, com'è composta questa mostra? Quanti anni abbraccia? Quali periodi abbraccia? Questa mostra ha un periodo, diciamo, che è un po' l'ultimo periodo. Ci sono di là delle cose degli anni, ci sono dei pezzi, tre pezzi stupendi che ora si possono andare poi a vedere, degli anni Sessanta, che sono bellissimi, ma per la maggior parte queste opere sono degli anni 2000, no? Questo per dimostrare una cosa, ecco, qui ci tengo a dirlo perché molte volte si parla degli artisti referendosi alle date, no? Per cui si dice, ah ma questo è del 1960, non vuol dire niente. Il problema è l'artista, è artista quando nasce e quando muore, se è un artista vero. Questa è la cosa importante, perché l'artista vive la contemporaneità, è presente in quel momento e in quel momento ti dice quello che sta succedendo nel mondo, perché è universale. Noi ci dimentichiamo sempre una cosa, l'opera d'arte, che molte volte viene individuata da tanti personaggi, come un fatto di bellezza, ah ma com'è bello, ma guarda, ma com'è fatta bene, non vuol dire niente. L'arte non è quello, tant'è che ci sono delle affermazioni importanti, anche di Kant stesso, ma il problema dell'arte è la verità e la verità purtroppo non è bella. È difficile trovare una cosa bella nella verità, la verità è dura e artisti come Vasco Bendini ce lo dimostrano in questi lavori, che sono stupendi, ma stupendi se tu li guardi. Non li puoi considerare un decoro, guardare l'opera e poi continuare. No, ci si ferma davanti all'opera, la si guarda in profondità, perché ogni dipinto ha punti in cui ti si avvicina, ti entra dentro. Tu ci parli, ci parli con la tua emotività, con l'emozione, con la tua interiorità. Questa è la bellezza dell'opera d'arte. Grazie a tutti.